Spesso si parla della crisi delle banche. In realtà in questi dieci anni ci sono state quattro crisi diverse e vanno capite se si vuole interpretarle. La prima è quella che citavamo noi, quella che è arrivata dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, la crisi della finanza di queste banche che investivano in titoli impossibili, incomprensibili, sbagliati e l'Italia l'ha passata più o meno in dolore. Poi c'è stata la crisi bancaria dovuta alla lunga recessione economica e siccome le banche erano impegnate con tutto il loro bilancio in crediti alle imprese e alle famiglie, col prolungarsi della crisi sono andate in crisi anche loro e quindi le perdite su crediti, il patrimonio che spariva eccetera. Anche questo si sta aggiustando. Poi ci sono state le singole crisi di cui ha parlato lei e queste con alto costo sono state risolte, ma adesso c'è una crisi che è addirittura paradigmatica, cioè che attenta al funzionamento delle banche, nel senso che il sistema bancario dovrà cambiare completamente perché le tecnologie digitali che permettono di fare banche in modo totalmente diverso, la regolazione che vincola moltissimo l'attività, l'entrata nel settore bancario dei grandi operatori tecnologici Amazon piuttosto che Google e quindi entrano con delle forze pazzesche e la politica monetaria che tiene i tassi quasi a zero rende insostenibile il funzionamento delle banche tradizionali.